Nell'ultimo video abbiamo parlato delle principali piattaforme streaming e decretato quale sia la migliore. Se non l'avete ancora visto, dateci un'occhiata. Per il filone musica liquida, oggi scopriamo come connettere quindi le piattaforme streaming ai nostri amati impianti Hi-Fi. Gli ascoltatori, come abbiamo visto, hanno l'opportunità di poter scegliere quale servizio di streaming si adatta maggiormente alle loro esigenze di ascolto, avendo così sempre e ovunque un repertorio musicale potenzialmente illimitato a portata di smartphone. Ma un conto è sentire musica in ogni luogo, come sottofondo ad altre attività. Altra cosa è prendersi del tempo e dello spazio per un cosiddetto ascolto attivo. Parliamo di tutti noi audiofili che amiamo la musica in modo viscerale. E lo streaming, in un certo senso, ha rivoluzionato anche questo tipo di ascolto. Prima c'erano le bobine, i dischi in vinile, le musiche a sette, poi sono arrivati i cd. E oggi non abbiamo più nulla tra le mani, se non uno smartphone che ci offre con un'estrema facilità ed accessibilità di fruizione le piattaforme digitali. Ma non è tutto oro quel che luccica. Io sono Alessandro, bentornati in Hi-Fi Club, il canale dell'alta fedeltà. Internet ha sconvolto le dinamiche a cui eravamo abituati in passato. Di fronte a cotanta offerta musicale facciamo fatica ad orientarci. Tendenzialmente ascoltiamo solo ciò che già conosciamo. Ma in questo le piattaforme ci vengono incontro con i loro algoritmi, consigliandoci nuove uscite, brani simili alle nostre preferenze musicali e le tendenze di ascolto di altri utenti. Per un ascolto di qualità, poi, le cose non sono così semplici. Tra i vari formati, le frequenze di campionamento, le compressioni, le conversioni del segnale, soltanto per citare alcuni aspetti, resta la parte ardua della questione, ovvero la scelta dei componenti con i quali riprodurre la musica. Perché diciamocelo, coloro che richiedono un ascolto più attento, di alta qualità, necessitano di dispositivi differenti. Certo, si può utilizzare lo smartphone o il tablet come telecomando, ma a suonare sarà questa volta il nostro impianto. Oggi vi sveliamo quali sono i sistemi Wi-Fi più indicati e come utilizzarli per usufruire delle nostre piattaforme di streaming preferite. Il modo più banale è connettere il nostro tablet o smartphone direttamente all'amplificatore tramite connessione analogica, con terminazioni mini jack 3.5 e stereo RCA. Ma è una soluzione poco pratica e ormai obsoleta, che però consente di connetterci a qualsiasi prodotto che sia un amplificatore vecchio stampo o un all-in-one ultramoderno. E trattandosi di connessione via cavo non avremo perdita di dati lungo il percorso, ma ricordiamoci che così facendo sarà il DAC interno al telefono a convertire il segnale da digitale ad analogico. Attenzione inoltre al volume. Dall'uscita cuffie dei dispositivi elettronici potrebbe trasferirsi anche tensione continua e distorta, danneggiando così il sistema di riproduzione. Quindi vi consigliamo di non esagerare con il volume dello smartphone. Regolatelo piuttosto dal vostro amplificatore. Le tecnologie wireless ormai sono presenti nella maggior parte dei dispositivi di ultima generazione. Una possibilità di trasmissione del segnale avviene infatti via Bluetooth. Il trasmettitore Bluetooth è dotato di un codec, ovvero un software dedito alla compressione dei dati, che consente la codifica e successivamente la decodifica degli stessi. Fino a poco tempo fa la connessione Bluetooth non poteva trasmettere nient'altro che file compressi, cosiddetti lossi, come ad esempio gli MP3 e gli AAC. Tuttavia le cose sono cambiate solo pochi anni fa. Quando alcuni dispositivi Bluetooth compatibili hanno cominciato ad integrare un chip aptX, una procedura di compressione altamente evoluta con poche perdite di dati, che propone una qualità audio vicina a quella del CD, anche se non paragonabile. Ci permettiamo di insistere sul fatto che per beneficiare dei vantaggi del sistema aptX in termini di qualità del suono, è indispensabile, come con qualsiasi codifica, un dispositivo di trasmissione che utilizzi un protocollo compatibile con quello di ricezione, ovvero entrambi i dispositivi devono avere il modulo aptX integrato. La connessione tramite ricevitore Bluetooth integrato è una soluzione pratica e veloce, disponibile su una vasta gamma di prodotti dagli amplificatori ai diffusori attivi. Tra quelli con Bluetooth integrato ricordiamo Spectrum X5BT del marchio danese Tangent, Ruark MR1 premiato come miglior sistema audio compatto dalla rivista What I Fai, Eltax Monitor 3BT con modulo pre-fono integrato. Queste sono soluzioni compatte e di grande versatilità, grazie all'ampia connettività digitale, analogica e wireless. Sono un'ottima alternativa per sonorizzare scrivanie, salotti, tv, sia per le qualità in termini di resa sonora che in termini di design. Ma per un livello maggiore della trasmissione dei dati occorre sfruttare la rete internet domestica, attraverso il Wi-Fi di casa. Si può infatti inviare musica dal device su cui è installata l'app del servizio streaming al dispositivo in grado di riprodurla collegati sulla stessa rete. Il Wi-Fi, oltre ad aumentare la qualità di riproduzione e ampliare la copertura in termini di distanza tra i dispositivi, consente di connettersi inoltre a più dispositivi, in modo da poter godere di un'esperienza di ascolto completa anche in più stanze, il cosiddetto multi-room. Attraverso la tecnologia del multi-room possiamo ascoltare musica in ambienti diversi, siano essi domestici o commerciali. È possibile mandare in streaming musica direttamente da app ad una o più stanze, attraverso più sistemi attivi, compatti e versatili, scegliendo appunto se riprodurre la stessa musica per tutti gli ambienti oppure brani diversi per ciascuna zona. Pensiamo ad esempio alla linea Connect del brand francese Ellipson, che include il raffinato Planet V35 col suo design unico, capace di connettersi con diverse piattaforme streaming e internet radio. Ma come non ricordare le ultra premiate KEF LS50 Wireless 2, che vantano una connettività completa supportando streaming di altissima qualità, tra cui i formati MQA e DSD, integrando AirPlay 2, Spotify Connect e Tidal Connect. Lo strumento per eccellenza per la fruizione ai file della musica in streaming è lo streamer, che preleva e gestisce file musicali attraverso la rete. Questi file possono essere residenti all'interno della rete domestica, ad esempio su NAS o PC, oppure prelevati dai server delle varie piattaforme di streaming. Questa tipologia di apparecchi non ha un nome univoco, possono essere chiamati lettori di rete, sintonizzatori di rete o ancora network streamer. Ad ogni modo possiamo scegliere la connessione Ethernet RJ45 o quella wireless. Salvo rare eccezioni, i lettori di rete integrano un modulo di conversione DAC, oppure sono dotati di porte SPDF o USB che permettono di collegarli ad un DAC esterno. Ma veniamo ad una soluzione più pratica. Se il DAC è già presente all'interno dell'amplificatore, si parla di amplificatori integrati. Qui il principale vantaggio rispetto alle soluzioni a componenti separate è ovviamente la minor richiesta di spazio ed in genere un minor costo. Tutte le elettroniche interne sono studiate per una massima resa ed integrabilità tra esse. Il DAC interno si occuperà della corretta trasformazione del segnale digitale in analogico, da affidare poi alla sezione di amplificazione. Nell'olimpo degli amplificatori integrati, un trono è riservato ad Hegel. No, non sto parlando del filosofo tedesco, ma di uno dei nostri brand di eccellenza, che progetta e sviluppa soluzioni high-end con tecnologie uniche e proprietarie, garantendo una qualità sonora straordinaria. Le elettroniche Hegel sono collegabili alle più diffuse piattaforme streaming ed integrano i sistemi di connessione tra i più avanzati attualmente disponibili, tra cui Spotify Connect e AirPlay 2. Ovviamente ricordiamo anche la serie Cyrus One, in grado di sballordire anche il più smanettone, perfettamente compatibili con le principali piattaforme streaming e i più diffusi assistenti vocali. Abbiamo finora nominato i servizi Connect, ma di cosa si tratta? Quando un prodotto ha la certificazione da una piattaforma streaming, può direttamente connettersi ai server di quel servizio per riprodurre i contenuti multimediali. Avremo quindi Spotify Connect, Tidal Connect, Cobas Connect. Queste predisposizioni permettono di interfacciare il tuo smartphone con dispositivi compatibili che utilizzino la stessa rete Wi-Fi e li collega in modalità wireless per riprodurre poi musica in streaming. Basta avere l'app installata ed un account del servizio streaming e il gioco è fatto. Il flusso di dati avverrà direttamente dai server al dispositivo, lasciando così lo smartphone, libero per effettuare chiamate e per tutti gli altri usi. In pratica verrà usato solo per controllare la riproduzione musicale, come un telecomando. Si può persino uscire dalla stanza senza interrompere la riproduzione della musica e senza consumare di fatto la batteria del telefono. Tra i prodotti Connect troviamo i sistemi attivi che integrano una sezione streaming al loro interno per poter riprodurre i nostri brani preferiti nel modo più comodo e veloce, direttamente dalle piattaforme stesse. Tra tutti KEF LSX e LS50 Wireless 2 sono Spotify Connect e Tidal Connect. Il brand danese Lindorf, invece famoso per le tecnologie di correzione ambientale Rune Perfect, offre amplificatori integrati dotati di connettività di altissimo livello. Possiamo soffrire di Spotify, Rune, Airplay 2, Internet Radio e tutte le altre classiche connessioni Bluetooth e Wi-Fi. Più o meno lo stesso principio vale per Airplay e Chromecast. Con Airplay puoi inviare da device Apple, musica, podcast e altri contenuti audio in streaming inviandola ai dispositivi compatibili per la riproduzione. Hai un magnifico sistema audio collegato alla tua TV e vorresti utilizzarlo anche per ascoltare la tua musica preferita in streaming? Allora ti basta trasmetterla dalla piattaforma desiderata ad un dispositivo Chromecast collegato alla televisione tramite HDMI. E per quelli che hanno impianti vintage e sono legati indissolubilmente ai loro componenti, riusciranno i loro impianti a vincere la prova del tempo? La risposta è senza ombra di dubbio sì. È possibile godere ancora del fascino di questi vecchi sistemi Wi-Fi grazie a dei semplici quanto moderni ricevitori Bluetooth e Wi-Fi. Ellipson Connect Wi-Fi Receiver è un esempio di streamer di rete pensato per gli appassionati di musica che amano i loro amplificatori analogici vintage e vogliono sfruttare le piattaforme streaming come sorgenti. Il Connect di Ellipson può essere collegato direttamente ai connettori RCA di uno degli ingressi auxin dell'amplificatore. Come abbiamo visto quindi le modalità per usufruire delle nostre piattaforme streaming preferite sui nostri impianti Wi-Fi sono innumerevoli e per lo più dipendono dal grado di connettività del nostro impianto, anche in vista di un possibile upgrade. In prima battuta abbiamo esaminato le connessioni via cavo. Ovviamente raccomandiamo sempre l'uso di cavi di buona qualità, che provvedano a trasmettere il segnale nel migliore dei modi, evitando interferenze o perdite di segnale. La connessione wireless è una comoda alternativa. Tramite Bluetooth possiamo connetterci ai nostri prodotti, ma dobbiamo rimanere nei pressi dei nostri sistemi di ascolto. Desideriamo un livello superiore? Opteremo quindi per le connessioni Wi-Fi che sfruttano la linea internet domestica. Ovviamente si può procedere direttamente dall'interfaccia delle varie piattaforme streaming, oppure affidarsi ai music player. Alcuni esempi sono Rune, Audirvana, M-Connect, ma di tutto questo ne parleremo in un altro video dedicato. Ricordiamo infine che la velocità e la stabilità della connessione internet è un fattore fondamentale da tenere in considerazione per una riproduzione fluida della musica in streaming. E se volete esagerare, l'uso della connessione cablata, ove possibile, sarà sempre la garanzia migliore per una maggiore stabilità e velocità. Per ascoltare musica in streaming dalle piattaforme, quindi oltre alla piattaforma stessa, vi basterà scegliere solamente i giusti strumenti di riproduzione, un comodo divano e soprattutto buona musica. Al prossimo video dal Li-Fi Club!